In attesa del nuovo DPCM che stringerà ulteriormente le misure di contenimento del virus nel veneziano è lotta a chi non rispetta le regole, in particolare a quei bar o ristoranti che chiuse le serrande organizzano cene private. L'invito che faccio a tutti quanti è di stare alle regole, di chiudere quando è ora e di non cercare scorciatoie o modi surrettizi per continuare l'attività dopo l'orario di chiusura. L'attenzione si sta alzando anche verso quei giovani che non avendo più svaghi serali o notturni iniziano a girare per le strade vuote senza meta. Il rischio è che commettano danni, vandati di vandalismo o liti o comunque non sappiano come impiegare il tempo e questo potrebbe diventare un problema nei prossimi giorni. Tra le criticità emergenti quella delle spaccate notturne favorite dallo svuotamento delle strade. Su questo posso garantire che le forze dell'ordine sono state attivate e i controlli saranno sempre più serrati anche di notte. Particolare attenzione alle manifestazioni, in alcune piazze infatti alle legittime proteste di commercianti e ristoratori si sono aggiunte frange di estremisti che hanno provocato scontri. L'unica cosa che mi sento di dire è che devono stare attenti a non farsi infiltrare, a tenere lontani certi movimenti, certe frange estreme che approfittano di questi momenti, di questa situazione di disagio per insinuarsi e portare avanti le loro idee estremiste.